Un made in Italy sempre più apprezzato e che potrebbe essere proprio lui a salvare l'Italia. Esatto, ed è proprio quello che si sono chiesti gli amici dell'associazione I Love Italian Food che è un network, un'associazione culturale no profit che promuove e difende la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo. Una community internazionale che nel 2017 ha raggiunto più di un miliardo di contatti digitali in tutto il mondo. Il webinar dal titolo Il Made in Italy salverà l'Italia ha ospitato Francesco Panella, Carolina Verniano, Eugenio Perriè, Carlo Ferro, Carmelo Troccoli, Lidia Bastianici e Rodrigo Cipriani-Foresio. Ascoltiamo il presidente dell'associazione Alessandro Schiatti. Benvenuti ai 100% Internet Talks 2020, Il Made in Italy salverà l'Italia. Ma io Talks li ho aperti con una storiella che voglio raccontare anche a voi. 15 anni fa nel 2005 Netflix noleggiava DVD via posta negli Stati Uniti e sempre nello stesso anno Blockbuster noleggiava DVD anche lui, ma lo faceva in migliaia di negozi sparsi in tutto il mondo, in quattro continenti. Otto anni dopo, nel 2013, Netflix da un lato ha iniziato le produzioni cinematografiche e televisive, e Blockbuster invece è fallita. Questo perché? Perché Netflix ha saputo cogliere il cambiamento e Blockbuster invece il cambiamento non l'ha neanche visto. Perché ho iniziato con questa storiella? Perché come ho detto il titolo era Il Made in Italy salverà l'Italia e siccome il 2020 verrà ricordato come uno degli anni che hanno cambiato il mondo, il mondo verrà cambiato da questa pandemia in modo radicale, noi dobbiamo cercare di capire come sfruttare al meglio questo cambiamento a favore del Made in Italy, per cercare di dare valore e forza al nostro paese. Io vorrei concludere questo intervento leggendovi solo alcuni passi di quelle che sono alcune cose che sono uscite. Allora per esempio Fabio Leonardi, Igor Gorgonzola dice Il Made in Italy l'agroalimentare sicuramente salverà l'Italia. Noi produttori con la nostra esperienza riusciamo a valorizzare il territorio, a creare un immaginario di Italia Style gradita in tutto il mondo. Se invece sentiamo quello che ha detto Giuseppe Di Martino della pasta Di Martino, dice non esiste persone nell'universo che non riconosca agli italiani la capacità di produrre qualcosa che abbia una marcia in più, che è la cura, la passione per il dettaglio. Quindi vi suggerisco se avete voglia e tempo di andare sulla nostra pagina Love Italian Food, c'è la versione integrale dei Talks e ve la potete ascoltare.